Due nuovi bienni di secondo livello dedicati a cinematografia e fotografia documentaria e alla comunicazione globale. L'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari amplia l'offerta formativa e conferma il suo percorso di crescita come punto di riferimento dell'alta formazione per tutta l'isola. È l'unica accademia presente nel territorio della Sardegna come punta apicale dell'alta formazione artistica e di questo ne siamo coscienti, abbiamo tutto il peso di questa responsabilità. I corsi e le proposte di studio costituiscono un'importante opportunità sotto il profilo della formazione artistico-culturale degli allievi in costante aumento. Le aspettative sono sempre legate a un trend di crescita che è in piedi già da diversi anni, sostanzialmente da quando ho preso la direzione di questa Accademia. Abbiamo raddoppiato in questi anni gli allievi da 250 circa fino ad arrivare ad oggi a circa 500 allievi. Quest'anno ci aspettiamo un'ulteriore crescita anche perché sono stati aperti, apriamo, due nuovi bienni. Un corso in didattiche dei territori e comunicazione globale e un corso in cinematografia e fotografia documentaria. Sono due nuovi corsi altamente professionalizzanti che hanno l'aspettativa di creare in qualche modo professionisti del settore perché uno dei focus di questa Accademia da quando faccio direttore, il mio personale intendimento, è quello di unire la formazione alla produzione, quindi al rapporto diretto con il mondo del lavoro. Resta importante il legame con il territorio e le istituzioni locali, in particolare provincia e comune. Abbiamo fatto una convenzione con la provincia di Sassari che ci ha dato per 20 anni l'utilizzo del macedo. L'altro spazio che stiamo aspettando e dove c'è un'interlocuzione ancora aperta è la stecca a 10 via Diaz dell'ex mattatoio in cui è previsto un corso di restauro con valore abilitante.